Senti, ti ho appena bonificato l'anticipo, va bene? Sì, volevo parlarti di questo, allora... Non preoccuparti, l'ho aumentato di un 25% rispetto all'accordo. Sì, non è questo. Ascolta, sono venuta perché non mi piace parlare di queste cose al telefono. Allora, io... vorrei annullare il seguito di poesia e dolore. Sei pazza? È un romanzo fantastico. Eh? L'ho fatto leggere anche a... Eric! Che ne pensi del nuovo libro di Rania? L'ho letto tutto d'un fiato, tutte e trenta le pagine in un quarto d'ora. Posso già immaginarmi... No, no, aspetta un po'. E tu come l'hai letto? Io non te l'ho mandato. Tu scrivi sempre un documento su Google Drive con accesso libero a tutti. Oh! Ha qualcosa di speciale. Tutti quanti i miei colleghi si sono appassionati leggendolo. È emozionante. Non dovrebbe essere divertente. La violenza domestica è seria. Hai ragione. È una questione importante e molto seria. Ma il tuo libro, punto, no! Lo hai scritto per te. Sei una scrittrice che deve sempre fare la differenza. Altrimenti perderai lentamente lettori e verrai dimenticata. Ecco, Alia, che parla di Vater, mi sembra una cosa inelegante. Ma conta, la gente si identifica. Rania, cos'è che stai cercando? Da retta, termina il romanzo che hai appena cominciato. Non essere qualcun'altra. Devi essere te stessa e basta.